Musica Bentornati nel video di Gaming Siamo su GameLite Non si sa che cazzo ha detto praticamente Comunque ciao a tutti ragazzi e bentornati Siamo qui su GameLite Stiamo riportando I medicinali All'ena Per completare la missione Siamo vicini Robè? Sì dovrebbe essere questo l'accampamento No dobbiamo andare al punto Arancione Ah beh qui è Sì è un accampamento Non invece serve proprio qualcosa Oh una cesta di liuta Per caso c'è una cassa Che volevo fare una cosa Ops Minta ma li sciotti tu C'ho la mannara La mannara è figa Aia 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 Me ne fottu cazzo Tocca sbrigassero Beh sennò fra un po' viene A notte Io sono già arrivato Con tutto il gas Ho già arrivato Io pure Piana che sentimo che ci dicono C'è da Natalena L'ascensore Comunque questo gioco è veramente bello Io sono andato un po' più avanti di te Questa è la tua campagna Sì 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 Eh io sono un po' più avanti Tu sei più figo di me Eh no Quando gioco nella tua campagna Non c'ho i miei oggetti Qual è il problema Non so perché Ah vieni Rubè Eh tu che cazzo sei Diteglielo Si sono girati tutti Raisse non mi ha mai visto Per lui Sono un volto nuovo Giusto? Questo alla sinistra Vedi Questo qui Non è il Quel piccolo Il ragazzo piccolo Amico di Naruto Eh? È quello di Naruto Questo qui Sì Questa è figa Questo è nero Qualcuno deve farlo no? Questa c'è la tua stessa maglietta Mario Ed è alla costa Dobbiamo parlare con lei però eh Gli ho dato le medicine Arrivò ad entrare praticamente No Do cazzo sta lei? È sopra O è sotto? No un po' Penso di sopra No un po' È sopra No è sotto È sotto No è qui No è sotto Vieni vieni Ci sto aspettando Do cazzo stai? Ciao Io ti do parlare Ho da andare pure un attimo Dal mercante Ma che cazzo sta Eccola Il tuo farmaco antiepilettico Sarà anche suonato Eh messa in Con la torcia Con lo scotch Sembrava felice Che mi ha dato? Che mi ha dato? Potenziamento per la Ok Ma la mannaia lì che c'hai L'hai comprata? No ma la da baffo No ma la da baffo Baffo P Andiamo un po' Un attimo dal mercante Qui De gioie In dove è il mercante De gioie Che cazzo sta Ma siamo tornati Dove erano primo Ma che cazzo Penso sia sopra Aspetta E a me sono perso Ancora ne conosco Sta cosa Eccolo Cambia Progetto sanguisuga Ce l'ho Offerta limitata Bella sanguisuga Io c'ho 15 di denaro Non c'ho un cazzo Aspetta Aspetta Prima fa vendi Direi che non rompesse il cazzo Allora Vendi tutti gli oggetti preziosi Sì Ah sì Dobbiamo fare questa missione Dobbiamo fare la Guarda che spettacolo I pezzi me li tengo Allora Tubo e gas Qui c'ho Ah no c'ho un sacco d'armi C'ho Con il badmile Parcours 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 Ah mi sono spezzato una gamba Ti sono grata per quello che stai facendo per noi Io Senti Jade Ne riparleremo quando tornerò con l'antizin Ok Va bene Cerca di tornare tutto Ok Attiva trappole luminose Parcours Non spreca le trappole Non spreca le trappole Quando ci serve non ce l'emo Quanto cazzo è lontano sto fregno Parcours Parcours Zombie maldestri Ahia Porca puttana Aspetta ho lasciato un attimo il click dietro la macchina Ok Oh l'alcol Buono Secondo te si deve passare la galleria? Si Sto guardando le macchine della pulizia comunque No non si passa la galleria Come si passa la galleria? No è chiusa la galleria Comunque per trovare le armi Sto guardando la macchina della pulizia Guarda che cazzo mi fattoni Ah smettiti da fassiare gli zombie A me se viene un po' di pezzi di metallo Augurami buona fortuna Ah mi sono spezzato le gambe Oh ci stanno Li eliminiamo? Aspetta un attimo che sono messo molto ma molto male Quanto hai fatto che sono bloccato qui dentro? Oh dobbiamo ammazzare voi tu Mario vieni qua Mi viene la fa uscire Porca puttana Aspetta un secondo mi tocca a far me Un kit di soccorso Inventario vediamo un po' se ce l'ho Aspetta un attimo Dai Mario Madonna santa Questo fan kit di soccorso Ok mi sto da una curata Vai Vieni qua ci sono due sgherri che mi vogliono ammazzare Eh che problema c'è? Le sgherri adesso ci pensiamo noi Madonna Uno sgherri è morto Madonna Gli ho tagliato la testa col batire Ok 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 112 dollari Dai continuiamo Quanto cazzo ma non è quasi notte roba è? Eh tu perdi tempo Non sparate Sono qui per vedere Reiss Mi manda Brecken Sono qui per proporre un affare Dai è notte Facci entrare Non con i suoi tirapiedi D'accordo Fatelo passare Ci sarà da divertirsi Ma queste hanno la base più bella però No poi incontrerai Che tipo che è? Quanto tempo siamo amici Aspetta Ma togli sta brutta faccia Mi ha stigliato la destra Voglio proporti un affare Cosa offri in cambio? I tuoi servigi? La tua identità? Forse prenderò entrambe le cose Parla con Karim Uno dei Hai capito? Beh Che alternative ho? Io questo Già c'ho voglia di spaccare il capo A questo io Oh che c'è? La mannaia? C'è una mano Ho preso un'arma Che arma è? Cortello uncinato Arruccinato Io mi so fregato la mannaia Porco cane L'armi che ci so Dai Mario Posso di fare i chiacchiere Oh ma c'erano L'armi fighe C'erano Non so se potete via qualcuno Eh E salta Questo sta a giocare A lollo Scommetti Vediamo Sto a perdere Anche Dai andiamo su Dobbiamo salire Sopra queste antenne Altissime Io già l'ho fatto Qua è chiuso Mario Dove vai? Sei tu quello che guida No io non c'ho nessuna macchina Ho appena incontrato Un tizio di nome carino Si potrebbe dire Che è il maggiordomo di Reiss Eh E salta Vabbè fa come gli pare Tanto E vabbè Ma ci siamo andati De notte Siamo sicuri Io e te Aspetta qui c'è per dormire Aspetta Ma forse dobbiamo pagare qualcosa Ah no 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 L'alloggio è grave Io una volta l'ho fatta Una cosa di notte Non mi hanno mai sgamato I tizi Perché una volta che Ancora è notte Un'ora più tardi Quanto ragazzo Dove ho toccato a dormire Eh Veramente Mi hai superato la notte Perfetto Andiamo Oh ma Pare che ti hanno sgarrato il culo Vabbè Non so quanto corro male Eh Via via Fate spazio Via Riportatelo da Pilato Dove vai T'ho tirato la trappola Ora sei fottuto Oh Questo qui Ha perso il braccio Quale? Sto zombie Ha perso il braccio Da sola E Aiuto Vai Continuiamo Ah Dobbiamo prima Contattare il gre Prima Contattò Il gre Vieni qua Vieni qua Ecco ecco Sono arrivato Ho fatto il numero Di casa Ho visto Reis Non c'è dubbio È Suleyman Il tipo è pazzo Da politico Implacabile È diventato un fottuto boss Della mala È al corrente del fatto Che lavori per noi? No Crede che io sia uno Della torre Mi sta facendo fare I salti mortali Per ottenere un po' Di antezin Ricevuto Continua a fare ciò Che ti chiede Ricordati che ci serve quel file Fantastico Passo e chiudo Paco Ehi Al Capone Sei pronto? Cosa devo fare di preciso? Abbiamo problemi con le comunicazioni radio nella zona di quarantena Questi modulatori potenzieranno il segnale Così Reis Può comunicare con gli avvocati Ai confini della città Non parlavi più Oh vediamo la spazzatura Ho trovato uno spazio Di Reis Forse Comunque il re Deve controllare il suo regno Oh cazzo Che è? Che cazzo è stato? Ah Quando ho fatto Oddio E questi? Dai sono bloccati No Alice Prendi la corrente Ah Ahia Colpa tua Troia Ah Oh 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 Mario Ti conviene Venire via Oh Porca Troia Orbe Oddio Questo corre Questo corre Questo corre Dammi una mano Dammi una mano Quasi morto Vai giù Aspetta Aspetta Che mi ho da curare Vai vai curati Ci penso io A questo Vai giù Le bocce Ho preso E' divertentissimo Sto gioco Vieni 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 Vai giù E' morto E' morto E' ancora no Ah ora è morto Via Ah Mi è caduto di testa Se l'hai spaccata Ok Mi sono andato a una rattoppata Che cazzo serve? Vai vai Vieni Vieni Seguimi Eccola qui Dobbiamo salire là sopra La vedi l'antenna Deve esserci un interruttore nella casetta Alla base dell'antenna Mario Oh La vedi con l'antenna grossa Sì ma vedo pure sto coso grosso No ignora ignora Vieni 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 Sariamo sulla Io l'ho ammazzato Eh sangue Lo dobbiamo ammazzato Ci sei? Sei pronto? Eh Mi domanda Sopra l'antenna dobbiamo salire Da qui Ma Come cazzo sei salito Eh Non è un problema A un certo punto Arriva un pezzo che è bruttissimo Ma cara Allora Tocca se i re del parkour Tocca essi No S'ho caduto giù invece Di salire Allora lì c'è la scala Come cazzo ci sono al libro? Qua Ok E poi dobbiamo farci pure un'altra di antenna Come un'altra l'antenna? È un vizio il suo Quanto cazzo è alta? Allora Allora da qui Si sale da qua No Ma ne è capo? Ma perché non si aggrappa? Guarda chi è quello figo Robè Ma a me mi si sta bugando tutto il gioco Lo so perso Robè Ecco ma si è aggrappato Sta guindo cazzo Ok giro di qua Eccolo Andò donna Madonna Sembra delle scimmie Ma tocca sei lì ancora? Si Ma un mondo cazzo se va Da qua da qua Ah qui c'è stato arrampicato tutto questo coso Guarda un po' questo culo brutto Cazzo sai Guarda un po' questo culo brutto Oh lo zombie Lo butto giù Lo butto giù Aspetta 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 Non l'ho ammazzato No 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 Oh Oh Uh Se l'ho buttato giù Splash Ma hai fatto da che cazzo sta? Ah faccio casco di sotto Non tosso Si vabbè Dai Oh mjie qua c'è le vertigini Oh proprio L'attivo la cosa eh Così almeno E tanto Tocca aspetta a me Tocca aspetta Ah, è vero, è vero. Non mi fa fa niente. Ecco, sto arrivando. No, cazzo, abbiamo sbagliato, Mario! Perché? No, non dobbiamo venire qua, su questa antenna. Dobbiamo venire dopo, su questa antenna. Dobbiamo attivare prima quell'altra. Vabbè, vaffanculo, va. Porca troia. Eh, ero bene. Eh, sei morto? Io sono sceso in fretta. Cazzo, è ora? È ora che scendiamo giù e tiriamo su. È 13 secondi. Ah! Vedi, qua dobbiamo farlo. È qui, dentro il coso. Quindi qua, aspetta, facciamo una tattica un po' complessa. Allora, lo vedi questo? Attiralo qua il bestione. Attiralo qua. Dove so io? Valla a prendere, attiralo qua. Portalo qui. Portalo qui. A sta pipa. Guarda che scarso che è questo. Ah! Cazzo, ce l'ho pure dietro. Ma perché non me la devi? Valla a venire qua. Eh, va a far culo, ma sei un coglione. Che cazzo è successo? Hai fatto scoppiare qualcosa. Io non ho fatto scoppiare niente. Lui l'ho fatto scoppiare. Ma ti posso resuscitare? No, sono proprio morto. Oh mio Dio, quanti ce ne stanno? Dai, ma che faccio? Cioè, quando crepe perdo tutti gli oggetti. Cazzo, ma io te l'avevo detto. Puttana, portalo qua, portalo qua. Ma tu mi dici che niente? C'è una gente dietro però, brutto balordo. Come cazzo se esce da qui? Dai, ti aspetto qui. Penso un cazzo. Ma c'è una pari. Ma che io perché mi venavo? Eh, perché così qua sono altri tipi di zombie. Oh, arrivano gli altri. Apri qua, apri qua, vieni qua, vieni qua. Oh mio Dio. Che cazzo è qui? È schifo. Urlo perché questo stronzo di infetto con le modella che gli perdono dalla bocca. Mi ha sputato addosso del buco tossico e puzzolente. Ah, fa' un culo. Ah, fa' un culo che ero un bastardo. E poi c'era solo 53 dollari sto bastardo. Eh, hai visto? L'hai visto che ho fatto? Ah, ma hai visto? Ah, ma c'è un piccolo di acca scacca. L'hai visto? Io, guarda, se mi faccio prendere. Ma che cazzo? Criato, ti strozo. Guarda che gliela fanno scacca. queste scalze guarda guarda quando provano a scalcare caschino tutte ma ci muoiono questi basta vanno auto calze ora la corrente c'è porto cazzo mi ha arrabbiato ok ma ora dobbiamo salire dove eravamo prima ho aperto uno scassiamo un armadietto 123 dollaroni c'erano dentro a marcio qui è marcio buh è una gara aspetta qui c'è un coso lo regniamo sicuro si 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 ma ci siamo che fanno riserva e noi ci vediamo visto che sta per benignotte guarda la gente ce l'ho qui dentro aia proteggimi che chiudo qua sto a provare ma un sacco di gente e vai giù aia ma che cazzo non dov'è ma c'è un altro che sputa ma è fuori quando è ma che cazzo eccolo lì ma dovremmo essere protetti qua quando è faccio per no tocca accennero oh mio dio che botte che tira adesso ah andiamo oh ma che ne devi sbirri viene qua aia Porca troia Una nonna cara Ah cazzo Lady Proteggmi un attimo Ok sbloccata La vaffanculo Ho un portafoglio dentro L'ho trovato Oh Sotto attento dietro Troppi so Madonna Non sacco le sigarette però Che c'era dentro Ah io ho trovato un portafoglio Tu che c'ho trovato Caffè Staggio il padre hai visto Sì Sancho panza Ma perché non mi fassi a te sì Perché io sono figo Tu no Dai fammi vedere dove vai Vai Ne sto a pensare Salta salta Mi sto massacrando Spero ne valga la pena No Maledetto Roberto Che c'è sei da lui No Aia Emo saltato nello stesso momento E a me non mi ha fatto aggrappare Ho fatto un scoppio dalla madonna Ho fatto Mario Eh non mi sali Eh grazie C'è la grata Da qui Mario Dritto per dritto Per 3.14 E mo Eh mo sto guarda Belli fighi Trovano sempre la soluzione Ma Che cazzo stai andando E' qua il coso Oh qui si può fare il volo dell'angelo Eh fai prova Ah Che l'ho sentito Che broga Ah questo affare è ancora intatto Vediamo se ne è valsa la pena Ehi Karim Il secondo trasmettitore è apposta Vogliamo arrivare in cima in cima No Tanto c'è cazzo Io vedo una cassa Sai come tornavi indietro? Certo Ma io vado Fa vedere un attimo il panorama Guarda bello Eh si no Vado sopra sopra Lo faccio vedere da sopra Così chiudiamo Oh mio dio Qua è difficilissimo Mario C'è rapienato io sopra Oh mio dio Se tu chi hai da di qua Invece hai fatto tutto il giro di l'aria E' subito sopra Arrivai comunque Dissegni tutto cazzo Quarto Quarto Brutto Scarzo Vabbè ragazzi Diciamo che il video si può chiudere qua Io non mi salta più Si baga quando siamo Vabbè lo guarda da qua Per vertigini c'ho E vi lascio con il volo dell'angelo ragazzi Aspettate che lo faccio Con uno di vita Eeeh Yahoo Non mi credo che se la buttai sotto Si si Che testina di merito cazzo Comunque ragazzoli Noi vi salutiamo qui Spero vi sia piaciuta la puntata Mi raccomando Link pagina facebook In descrizione Mettete un mi piace Se non lo avete già fatto Ciao a tutti ragazzoli Ciao